Musica non va a passare la ripresa scavacando la polpavola ma c'era l'entere in piedi, non poteva sbagliare si ricomincia da una situazione di parità non lo dico in parità non lo dico in parità non lo dico in andare, vado a piedi non lo fissi a te faccia la prima non lo dico in stanza non lo dico in stanza giro, ad esempio la giro non posso andare guardino in avanti è un ottimo terreno ha visto il pericolo ed è riuscito a anticipare la pesata prova a passare la pesa, scava il campo e la colpa e la colpa e la colpa crossy prova a passare la pesa, scava il campo e la colpa e la colpa non si ferma grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti